Un vuoto per il centesimo anniversario della morte di Dante Alighieri purtroppo si è verificato, ossia l'attenzione alle donne. A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri viene così delineata una nuova figura femminile che ha tratti però ancora molti punti in comune con alcuni personaggi della Divina Commedia come Piede Tolomei, Francesca Darimini e Piccarda Donati. Tre donne che nella loro vita sono state vittime di una violenza fisica o morale. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Pensate che viaggio nel profondo, è come se fosse il primo grande viaggio della psicanalisi. Io lo porto da tanti anni ma oggi sono molto onorata perché sono proprio nella società Dante Alighieri, proprio nel centro di dove si coltiva Dante, ma non ha bisogno di essere coltivato perché è molto amato da tutti. Da me per prima.